Da Regione Lombardia sono in arrivo 350.000 euro con i quali a Gorno si risolverà il problema di via Ripavecchia. Sì, è così. Hanno deliberato un piano di 15 milioni in Regione Lombardia che riguarda tutta la Regione e qui nel nostro Paese arriveranno questi 350.000 euro che sono destinati per il progetto della Ripavecchia che è già da tempo che stavamo aspettando ed ora finalmente sono arrivati. E' una buona notizia anche perché, sottolineo solamente questo, se si pensa che tutto era partito con un tentativo di somma urgenza che vedevano 75.000 euro messi a disposizione al massimo ma con i quali non saremmo riusciti a fare quello che andava fatto con una compartecipazione del Comune del 20%. Abbiamo optato per l'urgenza che finanzia interventi fino a 200.000 euro ma anche con la compartecipazione del Comune per il 20%. Abbiamo scelto di nuovo strade diverse per visto gli impasse e i piccoli problemi che sono nati abbiamo optato per un progetto completo molto incisivo che credo sarà molto importante per la nostra comunità e i 350.000 euro, anche questo non è un argomento di poco conto, finanziano completamente il progetto cioè la compartecipazione del Comune non c'è in questo momento su questo progetto. A Gorno verrà aperto un centro prelievi? A Gorno verrà aperto un centro prelievi sì, adesso ci siamo, eravamo in attesa di alcuni sopralluoghi che sono avvenuti, che hanno confermato la bontà della struttura e dei lavori che abbiamo fatto credo che sarà una questione di, dico io, 10-15 giorni. Stiamo ruotando attorno a una data siccome saranno i lunedì mattina, non sarà il prossimo lunedì ma da quello successivo in poi potrebbe essere quello buono naturalmente pubblicizzeremo la cosa, faremo i volantini che devono essere fatti per rendere noto a tutti l'iniziativa credo che sia davvero un gran bel servizio, completamente nuovo, che rendiamo alla comunità. Rispetto alle miniere c'è stato un passaggio autorizzativo importante? Sì, per quanto riguarda le visite in miniera sì, diciamo che l'autorizzazione per fare le visite in miniera nasce dalla legge del 2009, una legge regionale del 2009, la quale prevedeva peraltro l'emanazione di un regolamento attraverso il quale poter poi dare questa autorizzazione ufficiale, il classico foglio con scritto si autorizza timbro e firma, solo che il regolamento doveva nascere dopo sei mesi, in realtà è nato dopo sei anni quindi voglio dire è passato un po' di tempo, questo regolamento è nato in primavera del 2015 è stata mandata tutta la documentazione richiesta dal regolamento e come sempre all'inizio la regione Lombardia ha anche chiesto qualche integrazione perché bisogna sempre un po' aggiustare il tiro, questo vale per tutti i siti minerali peraltro e quindi abbiamo fatto la stessa cosa, eravamo in itinere con questo meccanismo finalmente è arrivata anche l'autorizzazione, qualche piccola prescrizione che sistemeremo ma l'autorizzazione adesso siamo come dire anche con il documento ufficiale con timbro e firma quindi è importante perché questa è un'attività che abbiamo fatto crescere molto e su cui puntiamo tantissimo anche in termini di sviluppo futuri, neanche poi tanto lontani A Gorno si va al voto, si ripresenterà? A Gorno si va al voto, sì, meno male che ogni tanto si vota, è una buona cosa, non capita a tutti i livelli istituzionali A Gorno si vota, l'unica cosa che posso dire senza volere fare troppa melina è che il gruppo in linea generale ha dato la sua disponibilità a dare continuità ad un'esperienza amministrativa con quali ruoli gestiti da chi lo stiamo definendo, lo vedremo, non c'è nulla di così drammatico avremo modo comunque di essere più precisi in tempi ragionevolmente brevi